Buonasera a tutti, cari amici. Sono il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Stiamo finendo di preparare gli ultimi preparativi della conferenza che verrà effettuata il 15, 16 e 17 settembre 2017 a Roma. È l'unica conferenza che parlerà a livello nazionale delle vittime del controllo mentale. Non abbiamo altre persone che parleranno del controllo mentale perché noi stiamo preparando da oltre quattro mesi questa conferenza internazionale. Questa mattina ho telefonato al professor Paolo Cioni, psichiatra esperto in risonanza sensoriale, scrittore del libro Neuroschiavi e Paranoia e il 15 verso le ore 18 in collegamento tramite Skype avrò l'onore di fare una relazione con il professor Paolo Cioni perché è una cosa importante far capire alle persone che ci seguiranno e far capire alle persone che seguiranno i nostri canali e che seguiranno l'evento del 15, 16 e 17 che noi siamo associati e collaboriamo anche con professori, con persone coscienziati, ricercatori, medici e tantissime altre persone molto importanti che studiano queste tecnologie e che possono praticamente insieme, tutti quanti insieme, aiutare le vittime del controllo mentale. Voglio dire solamente un'altra cosa, abbiamo avuto la conferma che Riccardo, ex poliziotto dei nucleo operativi della scientifica sarà presente anche il 15 all'evento eh di Roma perché così avremo oltre la testimonianza di un psichiatra avremo la testimonianza anche di un tutore delle forze dell'ordine che a causa della sua onestà diciamo tra virgolette eh onestà lui praticamente è stato mandato via oppure è stato allontanato dalle forze eh dell'ordine perché lui aiutava le persone in un certo senso faceva il suo lavoro onestamente eh Riccardo ex poliziotto dei nucleo operativi speciali della scientifica sarà presente eh venerdì 15 settembre alle ore diciotto eh sarà eh farà una testimonianza che salirà sul palco e parlerà praticamente di queste eh manipolazioni radiocognitive e di questi attacchi che lui praticamente ha avuto e queste manipolazioni che sta subendo da molto tempo. In più avremo ehm allora molte persone importanti è stata fatta una modifica sul palinsesto praticamente eh aspettate un secondo che sto leggendo il palinsesto allora allora un secondo che non trovo il nuovo palinsesto che è stato messo allora eh Gloria Azzeni eh metafonia Roma farà la conferenza con Daniele Cipriani Ghost Hunter e eh membro dell'associazione Ghost Hunter Roma e presenteranno un libro Fantasmi eh d'Italia. Il professor Paolo Cioni è stato spostato praticamente il venerdì perché aveva dei grossi impegni per il sabato però il la conferenza che io farò anche il sabato alle ore diciotto eh ovviamente eh noi faremo alcuni test e alcune sperimentazioni durante sia la conferenza del del regista Avaro Venturi ci dovrebbe stare ospite come mi è stato confermato eh tramite Skype farà una piccola ehm una piccola ehm relazione il professor Corrado Malanga ovviamente con il collegamento tramite Skype perché ovviamente è amico intimo eh di Varo Venturi perché visto che il il film Sei giorni sulla terra è tratto proprio dalle ricerche di Corrado Malanga eh successivamente dopo ha lasciato sempre alla conferenza con al collegamento con su Skype con Corrado Malanga e Varo Venturi Varo Venturi ovviamente sarà presente all'evento eh e ci sarò io verso le diciannove diciannove trenta però io sarò sempre collegato dalle diciotto sul palco anche con eh regista Varo Venturi e con l'ospite Corrado Malanga collegato tramite Skype io farò la testimonianza ehm delle ovviamente eh delle mie ricerche che poi corrisponderanno a determinate ricerche farò anche delle domande al professor Corrado Malanga in più eh durante la mia conferenza che sarà eh allora aspettate la domenica diciassette settembre alle ore diciannove e trenta dovrei iniziare io eh effettivamente ci sarà la testimonianza con un collegamento tramite Skype con Rosario Marciano che ancora mi deve confermare al cento per cento se gli va bene l'orario per collegarsi in più ci saranno dei testimoni a sorpresa che potranno ehm dare la loro testimonianza oppure addirittura potranno parlare anche sul palco e abbiamo una ragazza che purtroppo eh farà la sua testimonianza ma non vuole essere né ripresa oppure faremo la testimonianza eh coperta e parlerà di quello che lei ha subito e in questi giorni stiamo avendo stanno arrivando tantissime email con tantissime ehm persone che chiedono aiuto che vogliono essere tutelate in qualche modo da questi manipolatori da questi attacchi da queste gravissime patologie che vengono indotte attraverso le radiofrequenze e che creano la manipolazione della bioaurea eh del nostro corpo ovviamente ehm frequenze di manipolazione che possono generare e creare determinate patologie portano veramente alla disperazione molte persone innocenti che sottoposte a questi a questi trattamenti però noi vogliamo che queste tre giornate siano come un punto di riferimento per le persone perché siamo gli unici in Italia a creare un evento del genere che parlerà del controllo mentale in una fiera nazionale e pubblicamente gratuitamente con questi ospiti molto importanti voglio ricordare un po' di ospiti importanti Varo Venturi eh Paolo Cioni Riccardo che lo ringrazio ex poliziotto nucleo operativi delle della scientifica poi ci sarà Meluzzi poi ci sarà eh Paolo Franceschetti eh aspettate che cerco un attimo tutta quanta la carrellata dei Alessandro Meluzzi Paolo Franceschetti poi ci sarà il moderatore dottor Antonio Parisi nella loro conferenza vorranno eh cioè vogliono una persona che praticamente fa il moderatore poi ci sarà Mario Cosentino che presenterà il suo libro eh ci sarà anche eh Gianluca Tizzori eh Ghost Hunter uno dei migliori dicono Ghost Hunter in Italia eh e molte altre persone molto importanti la domenica mattina avremo anche Raffaele Cavaliere che sarà praticamente farà un'ora di eh intervista sul palco e oppure eh farà eh la sua conferenza e tantissime altre persone ovviamente eh la la domenica avremo anche eh Antonio Parisi ritornerà un'altra volta Paolo Franceschetti e parlerà eh del suo libro tutte queste persone così importanti siamo riusciti a riunirle sul palco perché noi volevamo creare un evento che poteva far capire alle persone che non sono sole ovviamente noi ringraziamo l'associazione che ha potuto creare questo evento così importante esoterica duemila e diciassette perché noi non parliamo di esoterismo noi parliamo di controllo mentale di tecnologie di manipolazione e spionaggio delle masse ma all'interno della conferenza che è molto importante e dura tre giorni non potevamo parlare solo ed esclusivamente di controllo mentale perché noi siamo ospiti della fiera e quindi parleremo in determinati orari cercheremo di avvicinarsi di più alle persone che vengono sottoposte a questi trattamenti eh cercheremo più di stare a contatto con le persone che verranno questi tre giorni per farvi stare nel gruppo di ascolto presenteremo l'associazione italiana il quale io sto collaborando pienamente con l'associazione e l'associazione ha creato un nuovo gruppo di aiuto e di ascolto proprio per le vittime del controllo mentale voglio ricordare le persone che vengono alla che vengono all'evento di tre giorni la tessera per l'associazione sarà gratuita poi parlerete con i ragazzi e con le persone dell'associazione di quello o quello che cosa ehm quello che cosa vi serve però viene solo le vittime del controllo mentale avranno praticamente la tessera gratuita ovviamente facendo la tessera gratuita poi voi dovete parlare con l'associazione eventualmente per quello che voi volete fare con l'associazione voglio ricordare anche un'altra cosa alcune persone mi hanno contattato e mi avevano chiesto se potevano effettuare delle donazioni per mandare avanti le mie ricerche la radio web i canali di youtube i blog io vi ringrazio se volete effettuare delle donazioni i tre giorni che noi staremo insieme lì ovviamente tutto a livello gratuito io sarò lì a vostra disposizione ovviamente queste donazioni che voi farete non è che se a me mi donate un euro io dal bar e mi ci prendo il caffè no non funziona così io andrò a mettere questi soldi in un cassetto questo cassetto verrà aperto quando dovremmo comprare la telecamera termica perché ci serve per vedere e analizzare le frequenze del surriscaldamento del corpo durante gli attacchi con armi ad energia diretta ad onda convogliata a microonde o infrarossi io sto in questi giorni sotto surriscaldamento elevato sia di giorno che di notte sono costretto a dormire con le finestre totalmente spalancate e vicino alla finestra del balcone in più mi devo accendere il ventilatore durante la notte che dovrebbero essere le i momenti praticamente eh più freschi della notte invece a me succede tutto all'incontrario se mi si surriscalda il corpo e si surriscalda la stanza proprio durante la notte quando praticamente dovrebbero eh rientrare le frequenze in natura del fresco della dell'armonia della senerità invece in realtà vengono amplificate le eliminate frequenze che creano proprio degli anomali sugli scaldamenti degli svegli anomali durante la notte o addirittura anomali sogni che sembrano fatti in realtà virtuale poi noi spiegheremo bene durante eh la conferenza ovviamente durante i miei spazi della conferenza spiegheremo alcune cose che abbiamo capito e che siamo riusciti a capire anche grazie alle varie testimonianze che mi sono pervenute do un consiglio alle persone vittime del controllo mentale fate le testimonianze le interviste testimonianza io prenderò tutte le interviste testimonianza le metto all'interno di un hard disk e mano mano incomincerò a preparare l'intervista testimonianza la monto e poi la pubblico sui miei canali alcune persone mi hanno contattato e mi hanno detto ma non è che lei ha bloccato i video non è che lei ha bloccato le interviste non ho bloccato nei video nelle interviste sto aspettando per mettere i video e le interviste perché in questi giorni sono incasinato perché stiamo preparando un evento di tre giorni così importante io sono il tecnico dell'evento quindi io dovrò effettuare le registrazioni dovremmo fare le riprese ci sarà la sala stampa che faremo anche delle interviste con le persone importanti che verranno i relatori importanti o gli ospiti importanti che verranno all'evento voglio ricordare che c'è la presentazione del film chiamato Albe di Elisa Fuxas che è la regista figlia dell'architetto Fuxas quello della nuvola di Fuxas di Roma e presenterà il film Albe il quale parla delle ricerche di un'associazione di Roma che è il centro italiano ricerche il quale i protagonisti del film fanno tutti parte dei centri di analisi centri di ricerca centri ufologici e quindi il film parlerà proprio di UFO di questi argomenti quindi quando voi verrete praticamente alla conferenza vedrete proprio la presentazione di questo film che è una cosa molto importante vi dico la presentazione del film dovrebbe essere allora la presentazione del film è sabato alle ore 16 presentazione del film albe della regista Elisa Fuxas con i membri del centro italiano ricerche ovviamente poi successivamente dopo c'è la conferenza a cura del professore Alessandro Meluzzi e l'avvocato Paolo Franceschetti e poi il moderatore ehm dottore Antonio Parisi poi successivamente dopo c'è Mario Cosentino eh regista e scrittore presenterà il suo nuovo libro poi c'è il registro inglese Gary Parson qualcosa del genere poi c'è la conferenza di Gianluca a Tizzoli voglio ricordare il Ghost Hunter ehm e tantissime altre persone poi ci saranno alcuni spettacoli ehm strumentali ci saranno le danzatrici del ventre se non sbaglio sarà una conferenza spettacolo più che altro perché stare dalla mattina alle due cioè dal pomeriggio alle due il venerdì fino alla sera alle ventitré è veramente pesante poi il giorno dopo dalla mattina alle dieci fino alla sera alle ventitré sarebbe un'ammazzata per tutti e eh la domenica dalle dieci di mattina fino alle ventirei credo che sabato eh durerà la conferenza anche qualche ora di più perché praticamente parleremo di altre argomentazioni parleremo di alcune cose ovviamente questa è una fiera che deve riunire le persone sia che seguono l'esoterismo che sia eh che seguono praticamente eh il controllo mentale le ricerche eh i sviluppi che stiamo facendo eh ci sono molte persone importanti di ricercatori eh scrittori registi cioè tantissime persone che si sono unite per dire la loro per parlare delle varie argomentazioni importanti si parlerà anche di presentazioni di libri di presentazioni di film si parlerà di tantissime cose che questa è una cosa importante e noi per tre giorni staremo insieme venite in tanti portate i vostri familiari i vostri amici i vostri parenti tanto è gratuito non è che dovete pagare niente dovete venire in tanti dobbiamo far vedere che siamo uniti che restiamo tutti uniti e che saremo tutti uniti per questi tre giorni se riusciremo e saremo in tanti cercheremo di fare anche una una catena di solidarietà per aiutare e far capire e anche riprendere questo avvenimento all'interno della conferenza una catena di solidarietà di aiuto e di amore e per far vedere che la nostra stretta di mani che creerà questa catena armonica servirà per cercare di far capire a chi ci manipola con questi sistemi a chi ci attacca con queste armi a chi ci vuole portare alla capacità di intendere e di volere all'incapacità di intendere e di volere che noi non siamo soli e che ci stiamo unendo con una catena umana di solidarietà che darà una frequenza di conforto una frequenza di conforto a tutte le persone che saranno presenti chiedo una cosa sola alle vittime che verranno al convegno quando venite diamoci un abbraccio voglio il vostro abbraccio voglio sentire le vostre frequenze sul corpo voglio che la mia frequenza del corpo fisiologica le vostre frequenze nel corpo fisiologico rientrino in risonanza rientreremo in risonanza sensoriale in risonanza armonica tra di noi che questa è una cosa importante un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia se volete scrivermi vittime del controllo neurale chiocciola gmail.com ovviamente molte volte bloccano le email delle vittime voi rimettetevi sul computer e cercate di rimandare l'email se vedete che non vi rispondo cercate di scrivermi sotto i video sul canale di Youtube Angeli Custodi MKUltra Italia o se no se volete vedere le testimonianze delle vittime le trovate anche su Angeli Custodi MKUltra Italia ma le trovate in esclusiva su Emiliano Babilonia Youtube che sarebbe praticamente l'immagine con l'occhio o se no potete andare a vedere o a sentire le interviste di testimonianza su Emiliano Babilonia Spricher un saluto a tutti amici di Emiliano Babilonia vi aspetto tutti vi aspetto il 15 16 e 17 settembre 2017 Parco Re Leonardo D'O D'O Grazie a tutti.